Il 5 gennaio siamo uscite vestite da Befane. Le Befane siamo tutte noi, noi che lavoriamo e facciamo un doppio lavoro. Lavoro in casa, lavoro di accudimento dei figli, lavoro di portare avanti le famiglie con grande difficoltà, soprattutto oggi. Il lavoro fuori che paradossalmente è un lavoro meno pagato di quello degli uomini, un lavoro spesso sfruttato, un lavoro molto spesso decontrattualizzato. Allora ci è sembrato utile uscire per la città oggi, portare delle caramelle ma anche un volantino che riguardi a tutti le condizioni in cui le donne sono trattate in questo paese. Il potere al popolo trova nella dimensione femminile, nelle varie opportunità tra donne e uomini, uno degli elementi di massimo riferimento. Per pensare a una società diversa, una società più equa, una società che ricordi sempre i diritti di tutte e di tutti. Potere al popolo! Grazie a tutti! Grazie a tutti!